Le tute blu di Termini Merese danno l'assalto alle banche. Stamattina, dopo l'assemblea dei lavoratori in Piazza Duomo, un centinaio di operai ex Fiat ha occupato pacificamente una filiale di Unicredit di Termini. L'istituto di Piazza Cordusio sarebbe, secondo fonti istituzionali, quello più restivo a concedere il finanziamento a Massimo Delisio, l'imprenditore molisano, che con la sua DR Motor dovrebbe prendere il posto dell'ingotto. Mentre le tute blu assaltavano Unicredit, un altro gruppo di lavoratori di Fiat e Indotto hanno occupato gli uffici di Intesa San Paolo, l'altra banca che insieme a Unicredit e Monte dei Paschi di Siena non concede il prestito a DR Motor. Il prossimo obiettivo, rivela Vincenzo Comella della Wilm Palermo, è la banca senese. Tra poco occuperemo anche la sua sede di Termini. Si tratta, dice Roberto Mastrosimone della FIOM, un'iniziativa simbolica per sensibilizzare le istituzioni a trovare una soluzione immediata per 2.200 operai e il sistema bancario a non irrigidirsi. Il programma per la giornata è di presidiare le tre banche fino all'orario di chiusura, poi un'assemblea dei lavoratori deciderà le iniziative per domani. Intanto, dopo l'appello al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, le moglie dei dipendenti di Fiat e Indotto scrivono a Papa Benedetto XVI, al Presidente del Senato Renato Schifani e al Governatore siciliano Lombardo. Chiedono una soluzione, un'avvertenza bloccata da 5 mesi. Vogliamo la dignità attraverso il lavoro, si sfoga Franca Giubilaro, moglie di uno degli operai che alla Fiat lavora da 35 anni. Vogliamo pagare le tasse, ma senza lavoro è impossibile.